Ci sono tante cose per cui vale la pena sorridere alla fine dell'estate. Una di queste è tornare ad iscriversi in palestra, per scaricare le tensioni del ritorno al tran-tran quotidiano e per non dimenticarsi di prendersi cura di se stessi. Spesso però la pigrizia ha la meglio, così può essere utile sapere che a Cassino è stata inaugurata una struttura polivalente, il Wellness Sporting Club, dove wellness sta per benessere, perché quando si parla di sporting non si intende solo pesi, tapirulano o ciclette. Allo Sporting Club troviamo anche la spa, troviamo il centro estetico, prossimamente anche per quanto riguarda l'acconciatore, quindi il parrucchiere. Qui allo Sporting Club c'è anche la scuola nuodo, tutte le discipline di combattimento, tennis, scuola di calcio, insomma tante discipline per stare bene con se stessi attraverso lo sport e lo sport sano. Praticare sport fa bene, lo dicono tutti e da sempre, e non c'è mai stata verità più assoluta di questa. L'attività fisica infatti ritembra corpo e mente, favorisce le relazioni interpersonali, oltre ad un accrescimento della stima verso se stessi. Per gli uomini ad esempio risulta sempre più divertente darsi appuntamento su un campo da calcetto con gli amici, o per le donne risulta sempre più essenziale tonificare il proprio corpo. Gag è una disciplina che coinvolge le gambe, gli addominali e i glutei, quindi la tonificazione degli arti inferiori prettamente e dell'addome. Mentre Pilates è una disciplina che coinvolge la tonificazione di tutti gli arti, quindi dai superiori agli inferiori, con una sorta di relax simile allo yoga, però ho una grandissima fatica perché andiamo anche a lavorare la muscolatura, quindi con gli addominali e la tensione muscolare degli arti inferiori. Vorrei invitarvi quindi tutti allo Sporting Club a provare queste discipline, ma non solo le mie, anche tutte quelle dei miei colleghi.